Siamo qui oggi per parlare con voi una questione che riguarda direttamente ciascuno di voi il rinnovo dei contratti di lavoro nel settore del sanitario privato. Il contratto collettivo nazionale di lavoro, IOParis, per il personale dell'ospedalità privata è scaduto ormai da 4 anni, ricordiamo che è stato rinnovato da 4 anni dopo 14 anni di attesa, ricordiamo che il rinnovo del contratto della RSA e del CDR è scaduto ormai da 12 anni. 4 e 12 lunghi anni in cui siamo stati costretti a lavorare senza la giusta tutela retributiva, senza la giusta garanzia di un salario dignitoso e senza il giusto rispetto che meritiamo per il nostro impegno e la nostra professionalità. Oggi alziamo le nostre bantiere e la nostra voce per chiedere il rinnovo immediato dei contratti. Siamo persone, siamo professionisti, siamo lavoratori e lavoratrici che ogni giorno si dedicano con passione e impegno alla cura degli altri, alla cura dei più deboli. Meritiamo rispetto, meritiamo dignità, meritiamo giustizia. Per questo oggi siamo qui, uniti e determinati, per chiedere ciò che ci spette e non ci fermeremo finché non otterremo ciò che è giusto e dovuto a noi lavoratori e lavoratrici della sanità privata.